e anche e soprattutto per i ragazzi che hanno organizzato la serata per il bellissimo non so per la bellissima riuscita di tutti ci vuole un po' di tutto ma ci vuole il previ PR dal locale e soprattutto ci vuole anche un artista insomma un certo tipo è andata bene va bene raga vi fate sentire il mio 3 1 2 3 senti ma adesso però ce l'ho a fare una prima di tutto voglio capire se riuscivo mai ad aprire questa bottiglietta d'acqua no aspetta che c'è qua stasera c'è Gianca stasera ha preso una pausa vado a risentire per Nico voglio dire no abbiamo fatto la dedica a tutti ma non è la persona più importante senza la quale non c'è Gianca che tenga la serata farebbe cagare quindi questa sera vogliamo fare la dedica alla persona più importante questa sera al parco tu sai chi sei lo sai lo sai però diciamolo vai Fabio questa sera è la parista o la parista non ti vedo da dove ti sei la biccarella tu che indi amare non è casato mi ha giunto il cuore di casa costagerata un parista amava non è giusto non è giusto e non è giusto per la parista mi ha giusto per la parista mi ha giusto ma non è giusto non è giusto io mi ha giusto non ho giusto sandwich con te Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!